Segui La7 anche su Instagram, La7 ovunque con te. Però che risulti a me e non risulti a lei, abbia pazienza, mi trova molto strano che risulti a me e non risulti a lei. Io mi prendo e mi assumo la responsabilità. Anche perché lei non è che sta facendo un'accusa di qualcosa contro il mio assessore. C'è un'accusa, poi c'è tutto l'inter. Non gliel'ha detto il suo assessore? Non gliel'ha detto? Il suo assessore non gliel'ha detto? Magari non lo sa? Assolutamente no. Io lo sto apprendendo in questo momento. Non conosco il fatto di cui stiamo parlando. No, ma neanch'io, perché io ovviamente non posso sapere il contenuto. Però mi sembra, dalla fonte che ho avuto, che si riferisca a una serie di atti, diciamo non propriamente corretti, fatti in funzione della sua attività e del suo lavoro. Questo è quello che mi risulta. Dottore Celletti, io domani mattina... Poi sono qua e posso dare assolutamente replica all'assessore. La prossima, diciamo, dopo Pasqua, sono pronto e disponibile ad ascoltarlo. Però è questo quello che mi risulta. Poi sarà lei a verificare. Adesso, no, adesso inutile che dialoghiamo. Io l'ho avvisata. È la prima cosa che farò domani mattina. Mi arriva conferma di questa cosa. È la prima cosa che farò domani mattina. Va bene, ne parleremo ancora.